Mr. Mignieco, il suo Carlentini ha subito la terza sconfitta consecutiva qui con Siracusa con lo sport in Priolo. Che cosa si sente di dire in questo momento della sua squadra? Mi spiace, mi spiace perché a primo tempo avevamo capito che la partita poteva essere nostra, c'era una buona circolazione di palla, anche se non abbiamo creato un granché di occasioni, però avevamo il possesso della palla e del gioco, poi a secondo tempo per essere entrati quel gol ci ha spaccato le gambe e siamo andati alla rinfusa cercando di catapultarci tutti avanti alla ricerca di questo disperato pareggio che non è arrivato. Cosa senti di dire su questo momento del Carlentini? Un caso, queste tre sconfitte o c'è da fare qualche mea culpa? Entrambi le cose, secondo me le tre sconfitte sono inaspettate perché erano squadre alla portata dove potevamo ricimolare almeno qualche punto, non dico a Marina, ma fra Sporting e oggi qualcosa l'abbiamo persa. Poi la mia culpa va fatta perché dopo tre sconfitte va sempre fatto.